Un neonato è morto soffocato mentre la madre lo stava allattando. La donna si è addormentata e si è consumata purtroppo la tragedia. Il dramma nella notte tra 7 e 8 gennaio all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Ora la donna rischia di essere accusata di omicidio colposo. Sulla dolorosa vicenda indaga la procura di Roma che sta svolgendo tutte le dovute indagini. Al momento la donna non risulta iscritta nel registro degli indagati. A dare il primo allarme è stata un'infermiera durante il turno di notte ma per il bambino nonostante le manovre di rianimazione. Era già purtroppo troppo tardi.